Tessiglone Show Out 1 Cliccate la sigla in descrizione, iscrivetevi al canale, mettete più mi piace, condividete e commentate Tessiglone Show Out 1, se non cliccate la sigla in descrizione, chiamo lo spot di Tabù, per due ore consettutive Cliccate la sigla in descrizione e sarete premiati, iscrivetevi al canale, grazie Tessiglone Show Out 1 Salve a tutti amici collisionisti e cartoni animati e recensiremo per voi nel Tessiglone Show Out 1 In questo Tessiglone Show Out 1 recensiremo le avventure di Pigri Wings Chi si riconosce questo cartone animato? Me lo vedevo poco sto cartone E di recente lo guardavo su un canale, ci sono anche gli episodi in italiano su Youtube, lo notate L'ho visto su un canale di Joyetech Media alcuni episodi su Gingem Perché questo cartone animato, che in origine si chiama Jackers The Adventures of Pigri Wings E' una serie matta CGI statunitense e britannica irlandese In onda su, in prima visione, su Italia 1 Nel 2007 Ma può trasmettendo anche replica da Boomerang, Gingem e Cartunito Che viene introdotta la sigla originale in inglese Mentre su Italia 1 viene cantata la sigla in italiano da Cristina d'Avena Pigri, pigri winting, pigri winting, le avventure di pigri Questo cartone, narra le vicende del maialino pigri winting e dei suoi amici Lana tra Deni o Marlard e il toro Ferdi, Ferdinando Toro Anche Fernando Toro potete chiamare Durante la loro infanzia dell'Irlanda rurale nel 1950 dalla fattoria Ralu e le campagne circostanti, la loro cittadina Tara Perché lo stesso pigri winting racconta ai due maialini Di aver vissuto all'età di 8 anni Che ora vive negli Stati Uniti Perché i suoi nipotini sono questi E forse questo Meg, la femmina e i due gemini maschi Sam, Sun e Sean C'è anche la loro madre Che devono imparare che cosa hanno fatto Vabbè, questa serie ha tre stagioni, 52 episodi E non so di quale creatore ha creato Ma è prodotta da Mikey Young Production E in DVD da OBI Work La serie è decisamente bella Che in cui Pigri Wins ha la voce di Davide Garbolino Che ha stessa doppiato altri personaggi dei cartoni Ma le avventure di Pigri Wins Si diverte e si impara tante cose nuove Come avete capito Dove Come ad esempio Quella puntata dove Danny incontra la sua cuginetta E c'è anche sua nonna Si perché abita con la nonna Sta Danny Impara che questi due Ferdi e Pigri che stanno giocando con lei Lei voleva fare diversamente Del suo problema Perché lei abita in America Mentre l'altra abita a New Year Irlanda Rurale Che giocano a baseball Mentre lei non gioca Quindi è un esempio di un cartonemato Di un episodio di Pigri Wins Che fanno tante cose Belle E interessanti E quindi Vabbè Pigri Wins Non c'è niente da dire E ci vediamo alla prossima puntata Del Tessiclone Show Speriamo che finirà Entro il 2025 Perché ci sarà Un Tessiclone Show Movie Ciao